Una firma per un protocollo d'intesa fra l'amministrazione comunale di Bassano, le categorie economiche, che va a siglare un progetto pilota con l'intervento a favore dei negozianti, artigiani, professionisti alle prese con affitti non sempre facili da pagare, soprattutto di questi tempi. Si tratta di un intervento complementare agli interventi governativi e regionali, una riduzione temporanea del canone mensile di locazione, un credito di imposta del 60% su affitti pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Noi mettiamo in campo l'Imu dovuta per il 2020, a patto che naturalmente il proprietario dell'immobile conceda uno sconto temporaneo sull'affitto mensile dovuto appunto dai negozianti e dai piccoli artigiani. In poche parole il locatore deve concedere la riduzione del canone mensile di affitto almeno del 30% aver pagato i mutasi negli ultimi tre anni, concesso in affitto al negozio, laboratorio, ufficio di dimensioni massime di 250 metri quadrati. Chi è dentro allo stabile deve a sua volta aver registrato una riduzione del fatturato superiore al 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto allo scorso anno. In cambio il comune concede ai proprietari una riduzione dell'80% dell'Imu dovuta all'anno 2020 in caso di riduzione di almeno 30% del canone d'affitto mensile. Se invece il proprietario dell'immobile riduce il canone del 40% e oltre riceve l'annullamento della tassa Imu dovuta nell'anno 2020.